qui siamo cos'è alla spiaggia canale delle sirene ma qui siamo al canale delle sirene è il canale delle sirene quindi dentro il tettuto non vedete niente guarda che bello questo qua qui in mezzo ah questo qui si è bello questo è il canale delle sirene siamo tutti in mezzo alle rocce con la barca guarda che bello il capitano deve stare attento a non beccare gli scogli se non so cazzi affondiamo adesso dovremmo uscire dal canale guarda che bello grazie guarda che bello guarda che bello